E niente, io mi sono svegliata alle tre di notte, che era impossibile dormire, sembrava averle in camera. Musica ad alto volume fino alle prime ore del mattino di domenica. Musica così forte che i residenti non sono riusciti a dormire come ci hanno testimoniato. A riportare la calma, i carabinieri, callertati dai cittadini, sono intervenuti in un'area arginale a Cittadella lungo il Brenta, trovando un vero e proprio rave con tanto di musica tecno sparata ad alto volume dalle casse. Una settantina i ragazzi presenti provenienti da tutte le province del Veneto. Da Vicenza a Venezia, da Treviso a Rovigo, con un'età compresa tra i 18 e i 30 anni, arrivati lì sulle rive del fiume grazie al passaparola che caratterizza questi eventi. Sono 54 i denunciati, anche se chi vive nelle zone limitrofe alla festa assicura che le persone erano molte di più. Il via vai di macchine è durato tutta la notte. L'entrata a casa verso luna, c'erano un bel po' di macchine lungo la via e c'era questo continuo fastidio musicale che poi è durato per adesso fino alle 5-6 di mattina. Feste di questo tipo sono abbastanza solite lungo i boschetti che costeggiano il fiume, ci confermano i residenti. Il Covid le ha un po' rallentate, ipotizzano. Per ridurre i passaggi sono state anche installate delle sbarre come queste. Qualche passo e si arriva alla festa con musica ad alto volume che rende le notti di chi in questi luoghi vive impossibili. È fastidioso perché è sempre tum 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 continuo, non si ferma mai, mai, mai. Dura tantissimo. Grazie. Grazie. Grazie.